C'è il bastone sostegno del cammino, le scarpe di giovani anziani come queste di Emma Morosini, 94 anni, la più anziana pellegrina del mondo, che adesso è in Messico. Scarpe storiche come queste di un pellegrino rinato da Auschwitz o queste di un Reduce della Prima Guerra Mondiale. Sono i simboli della giornata di festa che i frati del Santo propongono per la prima volta i cammini e i camminatori. Sabato 21 aprile, porte della Basilica aperte per riflettere, confrontarsi e pregare. Questa festa dei cammini nasce sicuramente alla luce di questi anni in cui abbiamo avuto modo di far scoprire il cammino di Santo Antonio come esperienza che nasce proprio dalla tradizione popolare, dalla tradizione della devozione e della religiosità della gente che arriva ancora oggi, da varie parti si mette in strada, si viene alla Basilica del Santo. Dal 21 aprile a luglio in Basilica si potrà assistere alla mostra Camminamente, esposizione artistico-religiosa di scarpe di camminatori ospitata lo scorso anno ad Assisi. Da Francesco ad Antonio, con l'idea che in un anno noi abbiamo percorso questo virtuale cammino che è apportato da Assisi fino a Padova, è un po' un coronamento di questo cammino francescano che percorre le coscienze e anche le scarpe delle persone. A quanti parteciperanno un invito particolare per la Messa delle 17? Invito però tutti a venire con le scarpe da cammino, da corsa, da trekking al collo che il Rettore nella Messa delle 17 le benedirà, quindi tutte con le scarpe al collo.